Tragedia sui binari a Francavilla. Verso le 4.30 di questa mattina una donna è stata investita da un treno merci in direzione sud sulla tratta Pescara-Foggia. La vittima è una 57enne di Francavilla. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe incamminata sui binari questa mattina prima dell'alba, quando è stata travolta e uccisa dal treno, nei pressi del Palazzo Sirena, sullo stesso tratto ferroviario dove sono già accadute tragedie simili. Per il momento quindi non è certo che si tratti di un suicidio. Quel che è emerso però è che la donna avesse problemi psichiatrici, tanto da necessitare di accompagnamento. Sul posto polizia ferroviaria, vigili del fuoco, vigili urbani, autorità giudiziarie e personale di Ferrovie dello Stato. Il traffico ferroviario ha inevitabilmente subito un'interruzione ed è stato parzialmente deviato sui binari di Ortona. Subito dopo aver rimosso la salma però i treni hanno ricominciato a circolare regolarmente. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, nell'esprimere cordoglio sui social network, ha invitato a riflettere sulla pericolosità del web e sulle responsabilità del giornalismo. Il primo cittadino infatti ha sollevato la polemica sulle prime indiscrezioni pubblicate su alcuni mezzi di informazione, secondo cui la vittima sarebbe stata una 24enne di Ortona. La notizia è risultata priva di fondi attendibili e è stata smentita. Le autorità hanno confermato, come già detto, che si tratta di una 57enne di Francavilla al mare. Grazie.